Non permetteremo alcuno scippo sul territorio, a dichiararlo questa mattina il presidente della provincia di Chieti Enrico Di Giuseppe Antonio, mediatore tra il sindacato e la proprietà della CS di Atessa, che ha ribadito le ragioni legate alla crisi economica e alla difficile congiuntura nel settore dell'automotive. La procedura di mobilità per i 28 dipendenti era partita lo scorso 22 aprile perché la proprietà intende trasferire la produzione della stabilimento di Cassino. Inspiegabile secondo i sindacati perché la CS sta così cancellando la professionalità in Val di Sangro, stante la volontà di trasferire tutti i macchinari presenti ad Atessa a Cassino che non dispone di attrezzature necessarie per la produzione aziendale, che comunque dovrebbe essere consegnata ai committenti in Val di Sangro, aumentando così il costo del prodotto. Di Giuseppe Antonio, nel mediare le esigenze delle due parti, ha proposto di verificare la possibilità di giungere ad un percorso condiviso che preveda una procedura di mobilità con adesione volontaria per maturare diritti pensionistici e ricorrere alla cassa integrazione guadagni per gli altri dipendenti, in attesa che il piano Marchion dispieghi i suoi effetti e, sperabilmente, segni l'inizio di una maggiore produzione in Val di Sangro. Per questo le parti hanno deciso di sospendere l'efficacia della procedura di mobilità, che sarebbe scaduta domani, per verificare la possibilità di aderire a questo percorso e risedersi al tavolo in provincia lunedì 19 luglio.